A fuoco una palazzina, un bimbo muore tra le fiamme, i familiari si salvano buttandosi dalla finestra, ma l'ore per un soccorritore saremo live dal luogo della tragedia. Tommaso Michielano, 23 anni, si è scontrato ieri sera con la sua moto contro una Citroen a Cividale, stamattina un camionista sloveno ha perso la vita in A4 con un maxitamponamento. Per Fedriga l'accordo Stato-Regione è un risultato importante per potenziare le nostre specialità, l'opposizione chiede chiarezza. Lucina Savorniane e Luigi D'Aporto, i personaggi che ispirarono la storia dei celebri innamorati, celebrati in Friuli per San Valentino. Domenica va sfruttata l'opportunità di ospitare il Chievo, domatina riprende il lavoro squalificato De Maio. A tutti voi buonasera, bentrovati a questa edizione live del nostro telegiornale, buonasera anche a Nicolangeli. Buonasera Giorgia. Apriamo andando subito a Pinsano al Tagliamento dove questo pomeriggio si è consumata una vera propria tragedia, un incendio, un incendio in una palazzina con la morte purtroppo di un bambino. Andiamo subito là dove c'è per noi a raccontarci tutto. Luciane Del Ponso. Buonasera Giorgia, buonasera Nicola e anche ai nostri telespettatori ci troviamo proprio di fronte alla casa che purtroppo indicativamente intorno alle 16.20 ha preso fuoco. La vittima è un bambino di 5 anni che era all'interno dell'abitazione con i suoi fratelli più grandi, una famiglia conosciuta all'interno della comunità e che purtroppo non si sa ancora che cosa esattamente abbia causato questo incendio che ha provocato queste conseguenze paurose. Quattro e mezzo dei vigili del fuoco sul posto e allora abbiamo chiesto una mano anche per ricostruire quanto è successo e per capire di più su questa famiglia al sindaco di Pinsano a Tagliamento, Emanuele Fabris, che ringrazio per essere con noi. Grazie a voi. Sindaco, una tragedia quella che si è consumata e che vede soprattutto vittima questo giovane bimbo di solo i 5 anni? Sì, siamo abbastanza stravolti da questa cosa perché ci ha veramente colti di sorpresa naturalmente. La dinamica credo che sia abbastanza semplice, nel senso che deve aver preso fuoco qualcosa i ragazzi che erano dentro, che sono ventenni, i fratelli del piccolo che è morto, uno è saltato dalla finestra quando si è visto il fumo intorno e l'altro è sceso. In qualche modo non si sono accorti del fratello che era ancora in casa e danno soccorso ai vigili del fuoco quando sono arrivati. Fratellino che era appena rientrato dall'asilo, pochi minuti prima, quindi proprio una coincidenza fatale. Sì, è terribile perché fra l'altro i suoi cuginetti che sono rientrati con lui erano qui fuori e lui non si capisce come era dentro in casa. Come potete capire l'emozione è anche tanta, quindi i due fratelli più grandi, uno si è proprio lanciato dal primo piano cercando di salvarsi da quella che era l'intossicazione in corso, il secondo fratello invece è rimasto intossicato e in questo momento è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso per la vittima nonostante l'intenso lavoro dei vigili del fuoco. Non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco che sono rimasti coinvolti all'interno dell'abitazione che proprio visto anche la triste scoperta uno di loro ha sofferto per un malore sindaco, una famiglia straniera che è proveniente dal Burkina Faso che però si era integrata completamente qui a Pinzano. Sì, sono tanti anni che sono a Pinzano, fra l'altro il papà è cittadino italiano da un anno e come i fratellini più piccoli. I fratelli grandi sono integrati all'interno della comunità, partecipano molto intensamente anche alle attività sociali e culturali all'interno della protezione civile e sono veramente amici con cui lavoriamo ogni giorno. Quindi una famiglia inserita anche all'interno della comunità, quella di Pinzano che ovviamente piange la prematura di partita di questo bimbo di soli 5 anni. I maggiori dettagli si avranno domani dai carabinieri di Spilimbergo intervenuti anche loro sul posto insieme ai sanitari per gli accertamenti del corso che in questo momento non possono essere effettuati anche per il calare della notte. Quindi maggiori informazioni su quanto effettivamente abbia sviluppato l'incendio si avranno domani mattina. Ringraziamo intanto il sindaco, grazie mille. Io vorrei sinceramente ringraziare i vigili del fuoco per tutto quello che hanno fatto e anche la dottoressa D'Agostino che è il medico del paese che si è premurata anche di soccorrere tutti i familiari che sono rimasti coinvolti. L'abitazione ora è sotto sequestro quindi maggiori informazioni domani. A voi la linea. Grazie, grazie mille Luciana. Grazie al sindaco per questo racconto di quanto è successo nel pomeriggio. il sindaco che ci ha sottolineato di voler ringraziare i vigili del fuoco come ci ha raccontato Luciana Idelfonso. Insomma si sono lanciati dentro l'abitazione per tirar fuori questo bambino dalle fiamme. Purtroppo il bambino non è sopravvissuto. Per un vigile del fuoco c'è stato anche un malore proprio dovuto al dispiacere di questa tragedia che si è consumata. Va bene. Vi daremo maggiori dettagli qualora ce ne fossero nel corso della serata oppure nella giornata di domani come diceva Luciana Idelfonso. Ci sono altre tragedie, altri fatti drammatici accaduti oggi. Sono accaduti sulle strade della regione. Cominciamo dall'autostrada dove un autotrasportatore sloveno è morto nell'incidente che si è verificato allo svincolo di Villesse. Quattro i mezzi pesanti che si sono tamponati in un momento in cui il traffico era particolarmente intenso sulla rete autostradale. Vediamo. Maxitamponamento mortale in autostrada all'altezza del bivio dell'A4 e dell'A34 tra lo svincolo di entrata e di uscita al casello di Villesse in direzione Venezia. Quattro gli auto articolati coinvolti, uno dei quali ha perso il carico di trucciolato. La vittima è un autotrasportatore sloveno morto durante il trasporto in ospedale. Un altro dei conducenti è rimasto gravemente ferito. L'incidente si è verificato alle 11.30 in un momento di forte traffico di code a tratti sull'autostrada. Il tratto è stato chiuso per permettere i soccorsi da parte del 118 delle lì soccorso e dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi e il personale di Autovie Venete. È stata istituita l'uscita obbligatoria a Villesse, ma code si sono formate comunque, essendo martedì il giorno più critico della settimana sul fronte del traffico, a causa delle ripartenze dei mezzi pesanti dall'est Europa. È stato infatti raggiunto anche un picco di 14 chilometri tra il nodo di Palmanove e la Tisana verso Venezia. I primi incolonamenti si sono verificati fin dal mattino presto e a congestionare ulteriormente il traffico ha contribuito un mezzo in panne che ha causato ralentamenti tra Porto Gruaro e Sandonà di Piave, sempre in direzione Venezia. Altro incidente mortale sulle strade della nostra regione, questo accaduto ieri sera. Intorno alle 11, Tommaso Michelan di 23 anni ha perso la vita sulla sua moto alle porte di Cividale. A guidare l'auto con cui si è scontrato un altro ragazzo, un altro giovanissimo, un 22enne di Moimacco. Vediamo. Scontro mortale ieri sera verso le 11 a Cividale, all'altezza di via del Laterano 5, la strada che collega la cittadina al vicino centro di Moimacco. Per cause ancora da accertare, lungo un rettilineo che non presenta particolari elementi di pericolosità, si sono scontrati frontalmente una Citroen C3 bianca e una moto 125. Entrambi guidatori giovanissimi, 22 anni di Moimacco, quello alla guida dell'auto, 23 Tommaso Michelan di Udine sulla moto. L'impatto è violento ad avere la peggio e quest'ultimo la moto si incendia istantaneamente, il ragazzo viene sbalzato prima sul parabrezza dell'auto e poi a terra, muore sul colpo. Il giovane di Moimacco, invece, nonostante la carambola dell'auto, rimane illeso. Intervengono subito i carabinieri, ambulanza e vigili del fuoco, ma per Tommaso non c'è più nulla da fare, nonostante un tentativo di rianimazione. In stato di shock, invece, l'altro ragazzo coinvolto, portato comunque in ospedale. Ai carabinieri resta da capire la dinamica dell'impatto. La moto, infatti, è finita sul vetro del lato del passeggero della Citroen e questo fa ipotizzare una invasione della corsia opposta da parte di uno dei due mezzi. Tommaso viveva a Paparotti, aveva solo 23 anni. La passione per la danza era diventata un vero e proprio lavoro. Praticava danza sportiva ed era insegnante in diversi luoghi, anche a Cividale. Sulle sue pagine di Facebook, tante le foto che lo ritraggono sul palco e anche in sella alle due ruote. E ora gli altri fatti di cronaca di giornata nelle Flash News, a cura di Francesca Santoro. Tre auto hanno preso fuoco nella notte in via della Valle a Udine. Il rogo, che ha messo in allarme diverse famiglie della zona, ha avuto origine da uno dei tre mezzi e si è poi esteso da altre due vetture in sosta. Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale. L'incendio potrebbe avere origini dolose. Nessuno si è fatto male, ma sul caso indagano i carabinieri. Due delle tre auto, tra cui una BMW, sono andate completamente distrutte. Aveva l'obbligo di permanenza domiciliare notturna, ma i carabinieri lo hanno trovato al bar. Così i militari di Felletto Umberto e Manzacco hanno arrestato un 52enne della zona, per violazione della sorveglianza speciale. Aveva messo in vendita online sul portale subito.it alcuni accessori per auto. Aveva anche trovato un acquirente, un friulano, che come pattuito gli aveva accreditato 80 euro. Ma si trattava di una truffa, così un 46enne di Messina è finito nei guai. Il compratore ha infatti sporto denunce ai carabinieri di Campo Formido. Intervento alle prime ore dell'alba per il corpo vigili notturni, in seguito alla segnalazione di allarme furto, dall'impianto installato nella Dexive di San Vito al Tagliamento, ditta produttrice di articoli per l'edilizia. Prontamente la centrale operativa ha inviato in loco la pattuglia. Da un primo controllo, la guardia ha trovato una finestra sfondata e ha informato la centrale del NUE 112. Sul posto sono così sopraggiunti i carabinieri. Restano ancora ad accertare eventuali ammanchi. Chiudiamo qui la pagina dedicata alla cronaca, anche se in realtà la riapriremo perché siamo pronti a ricollegarci nel corso del nostro telegiornale con Pinzano al Tagliamento, dove c'è stato il terribile incidente di cui vi abbiamo parlato in apertura. Terribile perché ha perso la vita un bambino di 5 anni. Torneremo lì tra poco con la nostra Luciana e Delfonso, con altri contributi e altre testimonianze. Ora, come dicevamo, cambiamo argomento. Cambiamo argomento, parliamo del patto tra Stato e Regione. Ne ha parlato Fedriga oggi nel suo discorso in aula. Andiamo a sentire e poi sentiamo le varie reazioni che si sono scatenate. Negli anni successivi sono convinto che il Fremio Venezia Giulia dovrà perlomeno arrivare a un contributo alla finanza nazionale paragonabile a quello delle altre speciali. Devo dire però che un dato vero è che se chiuderemo questo accordo pagheremo rispetto ai primi tre anni di giunta PD e Saracchiani, 834 milioni di euro in meno allo Stato, che vuol dire più risorse da trattenere per i nostri cittadini. Questa è una vera battaglia di autonomia. Sicuramente la parte finanziaria, ovviamente con questo risparmio importante per la nostra regione. Dall'altro lato una maggiore autonomia anche per quanto riguarda i tributi locali sugli immobili, dove vorremmo avere potestà di decisione esattamente come ce l'ha il Trentino, ma soprattutto l'impossibilità per lo Stato di alzare unilateralmente i contributi di regione Friuli Venezia Giulia. In passato lo Stato da solo unilateralmente poteva aumentare il contributo senza che la regione potesse dire nulla. Con questo accordo si potrà fare questo soltanto se regione Friuli Venezia Giulia è d'accordo e quindi tuteliamo i nostri bilanci e i nostri cittadini. Io le posso dire già adesso che proprio il paragone con i primi tre anni del mandato PD vuol dire pagare il 30% in meno, poi così in più addirittura, rispetto a quanto il PD aveva dato da regione Friuli Venezia Giulia allo Stato centrale. Questi sono i numeri esposti da Fedriga e poi ci sono le reazioni che arrivano dal Consiglio. Sì, numeri che convincono poco o fanno discutere l'opposizione in questo senso. Per arrivare a 800 milioni si fa un'operazione di facciata sommando cifre già maturate in passato e risorse che non c'entrano con il patto, dice il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Cosolini, ex sindaco di Trieste. Con un istituto finale che è sostanzialmente identico al tanto vituperato patto Serracchiani-Padoan, messo alla berlina più volte da quella che un tempo era l'opposizione e adesso è la maggioranza in Consiglio regionale. Dopo una lunga attesa, continua Cosolini, iniziata il 29 ottobre quando Fedriga annunciava la presentazione del documento al ministro Tria per un nuovo accordo che avrebbe poi presentato entro qualche settimana al Consiglio regionale. Le settimane sono diventate tre mesi e mezzo e oggi ci siamo ritrovati in mano un foglietto che mi auguro non sia il documento presentato allora al ministro, ha concluso Cosolini in aula. Perplessità anche da parte di Franco Iacop, sempre del Partito Democratico, che dice che quelli presentati oggi non sono i temi dell'economia ma degli spiccioli. Una cosa frequente perché c'è sempre la necessità politica di dire che si è fatto meglio anche di pochi spiccioli della volta precedente. Cristian Sergo invece del Movimento 5 Stelle, richiamando la commissione con la quale il patto chiedeva all'istituzione di una commissione d'inchiesta sul tema delle trattative con Roma, ha evidenziato che se oggi ci vengono proposte queste cifre immaginiamo che ci sia già una sorta di accordo fra le parti. Noi, precisa Sergo, volevamo partire dagli anni passati perché il problema è leggere le cifre in virtù del bilancio della regione. Se ci impegniamo adesso a mantenere delle cifre dobbiamo fare i conti con le entrate effettive della regione. Quindi a parte la maggioranza dell'opposizione nessuno è contento di quanto è stato esposto in giornata in consiglio. Passando ad un altro argomento invece sono tutti contenti adesso che altrimenti me ne stavo dimenticando, Giorgia, dei 65 mila euro che sono stati consegnati direttamente dal direttore della 7 Enrico Mentana al presidente Fedriga. Vedete qui nelle immagini con a fianco a Mentana l'assessore Zanin perché è l'assessore competente per la montagna. 65 mila euro che vanno ad aiutare la regione Friuli Venezia Giulia per i boschi che sono stati devastati nell'alluvione, nel maltempo di fine ottobre e inizio novembre del 2018. Torniamo a Pinsano al Tagliamento per la notizia di apertura. Luciane Delfonso. Sì, siamo sempre qui in via Principe Umberto a Pinsano, una comunità scossa da quanto accaduto, questo incendio divampato alle 16.30 in un piccolo borgo, un borgo abitato anche da alcuni familiari della vittima, un bambino ricordiamolo solo di 5 anni, gli zii abitano a pochissima distanza. Sono state ore complicate, frenetiche, di grandi lavori per i vigili del fuoco e allora abbiamo raccolto proprio una testimonianza di uno di loro che è intervenuto qui durante l'incendio e che ha avuto proprio il piccolo tra le proprie braccia per cui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Allora sentiamo la testimonianza. Non è semplice, tira su, cerchi, veloce, tira su una scala, entra calore, fumo, timore di quello che può succederti e poi trovarti questo bambino di 5 anni non è facile da affrontare quindi effettivamente è complicato. Il bimbo quando gliel'hanno dato aveva un po' di costruzione? No, no. Quindi gliel'ha passato di male dalla scala? Si, in effetti ce ne erano su due poi di vigili, uno è salito prima e uno l'ha seguito subito dopo. Chi fosse che me l'ha passato non lo so perché con la maschera non è che sia facile riconoscere il cirlo. Il bimbo già non dava seguito. Sembrava, sembrava, sembrava come l'ho visto lei, probabilmente è morto per asfissia. Io l'ho dato subito al 118. Si, ma aveva traumi da... Non posso dirlo perché non l'ho visto. Aveva bruciature o altro? A me l'hanno dato dall'alto, l'ho preso e l'ho passato perché era sotto via. Quindi non ho avuto tempo di vederlo. Mi hanno detto cinque anni, però non ho ancora i dati, non posso confermarlo. Parole che fanno capire, fanno comprendere quanto vissuto dai soccorritori. Ovviamente ringraziamenti ai vigili del fuoco sempre presenti sul posto in una comunità che si è chiusa in silenzio attorno alla famiglia e ai familiari di quanto accaduto al piccolo di soli cinque anni. A voi la linea? Grazie, grazie Luciana. Momenti insomma davvero drammatici, quelli che si sono vissuti questo pomeriggio. L'avete sentito anche nel racconto di questo vigile del fuoco che è andato a recuperare il bimbo, il bimbo che purtroppo non ce l'ha fatta. Cambiamo nuovamente argomento e veniamo al caso della biologa siciliana che è stata in qualche modo discriminata dal CRO di Aviano per la sua provenienza con una mail inviata per errore. Il direttore del CRO ha chiesto scusa e nei confronti dell'autore del messaggio non sono stati presi provvedimenti disciplinari. Vediamo. Nessuna discriminazione ma un equivoco. Così il direttore generale del CRO di Aviano, Adriano Marco Longo, ha spiegato la mail inviata per errore alla biologa siciliana Arminia Muscolino, specializzante in biotecnologia e medicina molecolare. Nel messaggio, inviato da parte dell'Istituto Tumori, due operatori si confrontavano in maniera informale sull'inopportunità di prendere in esame candidature da Palermo. Marco Longo ha spiegato che nella risposta alla richiesta di chiarimenti dopo l'invio della comunicazione interna era già stato chiarito che la frase era legata alla distanza dall'Istituto e non alla provenienza di chi aveva prodotto istanza. È stato anche spiegato che non si trattava di un concorso o di una borsa di studio, ma di una candidatura spontanea della biologa che chiedeva di collaborare con il Cro. Marco Longo ha peraltro assicurato che prenderà contatto con la biologa palermitana per invitarla ad Aviano per una visita all'Istituto. Non avendo ravvisato in adempienze, il direttore non ha preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell'autore della mail. Dispiace e lascia stupefatti che ancora oggi possano prevalere arcaici pregiudizi sulla provenienza geografica di giovani studiosi italiani, tanto da inficiare una valutazione che dovrebbe basarsi esclusivamente sul merito. Quello che è avvenuto è certamente un episodio intrescioso. Così invece l'assessore all'istruzione Roberto Lagalla commenta la vicenda. E il fatto ha avuto grande visibilità ovviamente in tutto il paese, soprattutto in Sicilia. Sì, ovviamente abbiamo fatto un piccolo giro sui social, sulle fanpage di Facebook in Sicilia e i commenti si sprecano per forza di cose. Qui ne trovati un po' di abbastanza equilibrati, Giorgia. Non sono riuscito a fare una media, diciamo, fedele a quanto accade, però ci dà un po' l'idea di quello che sia il dibattito. Fabio Cassenti scrive, da giovane studente di biologia, queste cose fanno davvero male. Stiamo ora a studiare e a prepararci in maniera dura per gli esami per poi sentirci dire queste cose. Vi raccomando, cari concittadini palermitani, nelle prossime elezioni. Votate Salvini, qui la mette un po' sul politico. Qualcun altro invece dice, nel Pordenonese i medici siciliani stimati, professionisti, sono decine. I siciliani con altre professioni e mestieri centinaia. Non facciamo di tutto un erba a un fascio, i cretini ci sono dappertutto. Insomma, questa è una visione un po' più oggettiva. Invece Sergio Catarano dice, vivevo Pordenone da più di 15 anni e non ho mai avuto nessun problema di questo tipo. Anzi, gli stupidi e maleducati si trovano da tutte le parti. Conosco tanti meridionali che lavorano nel privato a Pordenone e provincia non hanno assolutamente di questi problemi. Pordenone, e questo è un dato oggettivo, è una città cresciuta negli ultimi 40 anni anche con la presenza di meridionali che pensano di starci solo per un periodo e poi rimangono per tutta la vita lì. Quindi insomma c'è abbastanza, diciamo, poca aggressività da questo punto di vista, meno di quello che ci saremmo immaginati. Prevale l'equilibrio ogni tanto, anche sui social, che non è male. Va bene, ora rientriamo in Friuli e andiamo a parlare dei terreni agricoli di Fossalon e dintorni che entro l'anno circa 2000 ettari di questi terreni potranno contare su un nuovo sistema di irrigazione. L'assessore regionale Zagner ha effettuato oggi un sopralluogo insieme ai responsabili del consorzio di bonifica della pianura friulana. Un'opera indispensabile è attesa da anni. Così è stato definito l'intervento in corso nel Bacino Vittoria, tra i comuni di Grado e Fiumicello, dove il consorzio bonifica pianura friulana sta svolgendo lavori sul sistema di irrigazione dei terreni agricoli. Il cantiere, suddiviso in quattro lotti per un valore complessivo di 6 milioni e mezzo di euro, sarà completato entro la fine dell'anno. L'obiettivo è di sostituire il sistema di irrigazione attuale che sfrutta l'acqua invasata nei canali di bonifica con una rete in pressione esclusivamente a pioggia o a goccia. In questo modo, a lavori ultimati, saranno irrigati 2000 ettari di terreni agricoli. È evidente che questa opera era indispensabile perché permette da un lato di utilizzare e di rendere completamente il massimo, diciamo così, espressione di quello che è il consorzio di bonifica, dove c'è sia la parte di bonifica con l'idrovora già esistente, sia la parte poi dell'irrigazione con l'utilizzo della parte interrata delle tubazioni per riuscire ad irrigare un'area che comunque ha bisogno d'acqua, nonostante il fatto che qui sia estremamente presente nella fase di scolmatura. Speriamo che con il tempo e con gli investimenti che comunque stiamo facendo in maniera consistente sui consorzi di bonifica si possano ampliare anche le aree servite ad uso irriguo con un meccanismo che consentirà un'attività agronomica migliore. È necessario pensare che dove c'è l'acqua va utilizzata e questo è uno di quei casi, dove non c'è l'acqua e quindi ci sono problemi anche di captazioni va ripensato un po' il modello. Attualmente l'irrigazione a Fossalon avviene sfruttando l'acqua che viene invasata, così si dice, nei canali di bonifica, mentre invece lo scopo dell'attuale intervento è realizzare una rete di irrigazione e impressione esclusivamente dedicata appunto all'irrigazione. La vicenda Stroili, Nicola? Sì, la vicenda Stroili prosegue con un comunicato sindacale che è stato emesso dalla Filcams CGL e anche dalla FISASCAT che è l'organizzazione di categoria della CISL. Ci si lamenta per la questione ufficio paghe, insomma le due organizzazioni sindacali rinfasciano un po' l'azienda di avere tergiversato un po' troppo con questo genere di provvedimenti o di avere lasciato che le cose si trascinassero nel corso dell'ultimo periodo senza prendere delle decisioni concrete dopo che il precedente responsabile dell'ufficio se ne è andato in pensione, nulla di trascendentale, però fra le righe si leggono dei riferimenti a una sorta di presunta dismissione da parte dell'azienda. Il dato oggettivo è che in qualche modo si rimedia, però le organizzazioni sindacali un po' rinfacciano questo alla dirigenza. Intanto queste immagini che passano sui gioielli Stroili ci ricordano caro Nicola che sta per arrivare a San Valentino. Cambiamo totalmente argomento e parliamo di San Valentino e di questa festa perché è stata presentata questa mattina nel Salone del Popolo la 331esima edizione della festa di San Valentino che si terrà in città. Andiamo a conoscere le novità e i particolari. La festa di Borgo Prachiuso è praticamente diventata il fiore all'occhiello della città. Noi ci teniamo tantissimo a rispettare queste tradizioni, cerchiamo sempre di non snaturare la festa, quindi è incentrata sicuramente sull'amore e la protezione verso tutte quelle persone in difficoltà e quindi anche quest'anno a maggior ragione avremo un evento di beneficenza a favore del comune di Ovaro che è stato colpito dal maltempo come tutta la Carnia. L'iniziativa di quest'anno copre un po' l'intera città con spettacoli diversi, quindi dedicato ai bambini, dedicato alla cultura, ci sarà un film al visionario, ci sarà uno spettacolo in Porta Quileia, sempre legato comunque all'arte e poi naturalmente giochi, maghi, ma soprattutto e qui invito tutti, sabato sera proprio in questo salone alle ore 20 ci sarà una rievocazione storica, quindi un'ambientazione storica curata dal professor Travain, quindi tutta la storia di Lucina e Luigi e assieme a dei balli di corte ci sarà praticamente un'ora e mezza di spettacolo, storia e ballo dell'epoca. Un flash anche su quelle che sono le notizie nazionali, Nicola partiamo dalla TAV. Sì, la TAV continua a far discutere, è stato pubblicato lo studio commissionato dal Ministro dei Trasporti sull'analisi costi benefici della Torino-Lione e in base a quanto sostenuto dai tecnici no TAV, chiamiamoli così, l'analisi costi benefici dà un risultato negativo che si aggira dai 7 agli 8 miliardi di euro. La commissione che ha valutato si è divisa, sulla vicenda hanno firmato 5 dei 6 esperti. secondo la Francia il parere è troppo di parte, il test è stato pubblicato sul sito del Ministro dei Trasporti. Il commissario per la Torino-Lione, Foglietta, parla invece di un'analisi truffa. Toninelli ovviamente dice che i numeri sono impietosi ma sulla questione deciderà il governo e le opposizioni vanno all'attacco. Per Martina del PD c'è furia ideologica da parte del Movimento 5 Stelle e invece per Confindustria viene detto che al governo basti un dato che la cosa mette in discussione 50 mila posti di lavoro. Gli altri fatti del giorno nel prossimo servizio in collaborazione con l'ANSA. Presidente, conferma nessuna trattativa? Allora noi vogliamo, di tavoli ne abbiamo fatto abbastanza e accogliamo l'impegno di Conte e del Ministro ma qui non abbiamo più necessità di lemogene ma vogliamo fatti concreti, vogliamo che ci paghino il nostro prodotto. Non è possibile che chi fa le programmazioni del nostro formaggio poi non le rispetti. Oggi quel consorzio deve andare a casa, lo vogliamo commissariato da un magistrato possibilmente antimafia perché è ora di smetterla, di speculare su migliaia di famiglie che non riescono a sopravvivere con queste condizioni. La premier britannica Teresa May chiede alla Camera dei Comuni più tempo per un nuovo accordo sulla Brexit con l'Unione Europea. Promette un nuovo dibattito il prossimo 27 febbraio se l'intesa non venisse raggiunta. Per il leader laburista Corbyn, May ritarda per ricattare il Parlamento. Il leader catalano Carles Puigdemont da Berlino chiede all'Europa di far sentire la sua voce chiara sul processo che parte oggi a Madrid contro 11 leader separatisti per il ruolo avuto nel referendum del 2017. In Catalogna è caos per le proteste e per i blocchi stradali contro il processo. Veniamo ora allo sport con l'Udinese che ricomincerà a lavorare domani, settimana importantissima perché porta a una sfida davvero fondamentale per quello che è il percorso salvezza dei bianconeri, quella contro il Chievo. La salvezza dell'Udinese passa dalla Dacia Arena. Viste le difficoltà in trasferta dell'ultimo periodo, fare bottino pieno o quasi tra le mura amiche sarà determinante per la serenità di classifica dei bianconeri. A partire dalla gara di domenica contro il Chievo, la formazione di Nicola sarà chiamata a condurre un cammino sicuro senza cadute fragorose di fronte al proprio pubblico. Conquistare tre punti col Chievo dunque è l'imperativo, ma guai a sottovalutare la squadra di Di Carlo, che seppur in una situazione di classifica disperata è stata sempre protagonista sotto la gestione del tecnico laziale di ottime prestazioni, mettendo in difficoltà tutte le proprie avversarie. Sarà quindi una sfida da prendere con le molle. Massima attenzione per evitare brutte sorprese e cogliere un successo che, visti anche gli impegni sulla carta proibitivi delle concorrenti, potrebbe dare una bella boccata d'ossigeno all'Udinese. Allora bisogna ripartire dal finale di Torino, per spalmare sui 90 minuti quell'intensità e quella pericolosità sfoderata negli ultimi istanti della sfida dell'Olimpico, per distanziare definitivamente i clivensi storicamente indigesti. Ed infatti mai capò negli ultimi cinque anni a Udine, con due vittorie nelle ultime due visite. Da qui a fine campionato comunque l'Udinese ha il vantaggio di poter giocare alla Dacia Arena a tutti gli scontri diretti, fermo restando che bisognerà tentare di raccogliere qualche punto anche lontano da casa, nonostante il calendario durissimo. Dopo la pausa forzata a causa rinvio con la Lazio, arriverà infatti il Bologna, per un'altra partita da provare a vincere a tutti i costi, potendo sfruttare anche la pausa per prepararla e andando più in là. Con il tempo da qui alla fine del campionato passeranno dalla Dacia Arena, Genua, Empoli, Sassuolo e Spal, tutte squadre della metà destra della classifica, contro cui rimpinguare il bottino di punti e magari, come nel caso di Bologna ed Empoli, ribaltare i 2-1 subiti all'andata. Sarà indispensabile dunque fare del proprio campo un vero e proprio fortino. In questo telegiornale, Nicola, in cui abbiamo dato un sacco di brutte notizie, chiudiamo con una bella notizia che arriva dal mondo dello sport. Sì, è la prima medaglia per un'atleta del Friuli Venezia Giulia ai mondiali nello sci nordico. Storico bronzo per l'Ara della Mea, che con la sua squadra, composta da quattro atleti, Irene Curtoni, Simon Morberger e Alex Vinazzer, ha vinto la finale per il terzo posto nella specialità del Team Event. Quindi complimenti davvero per il bronzo a Lara della Mea. Tra l'altro la finale per il terzo posto è stata vinta contro la Germania, quindi c'è quel pizzico di soddisfazione in più per noi italiani in questo senso. C'è anche il Pordenone che sta giocando contro la Vis Pesaro 0 a 0 alla fine del primo tempo. Tutti gli aggiornamenti ovviamente nella prossima edizione live del nostro telegiornale, l'edizione della notte alle 22 e 30. Grazie Nicola. Grazie Giorgia. E grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di serata.